Eeeh minchia delirio Eeeh Ehehehe Ma chi cazzo è sto barbone? Ragazzi lui è Biciaku il vostro nuovo compagno Buongiorno figli di put... Oh finalmente un fratello Porca troia ma è che arriva un cinese Tu c'hai l'area di uno che spaccia Cosa? Tu non mi piaci Eppure i cinesi sono tanti Amal non sei cinese finisci Io non spaccio Al massimo spacco Silenzio Io faccio il cazzo che voglio Bravo fratello la fa a cuore Ragazzi scusate io vorrei seguire la lezione Tu morerai per primo Quello si fa di bamba ve lo dico io Fumagalli interrogato Ma se non vedo un cazzo Amal Ma perché?